Incomprensibile e ingiustificato l'accannimento di Renzi sulla questione petrolio, così si mette a rischio il tentativo di mediazione del presidente Pittella, dei parlamentari e degli esponenti lucani del governo, e quando sostiene il capogruppo del Centro Democratico in Consiglio regionale, Nicola Benedetto, sulle ultime esternazioni a Brescia del Premier, che, ancora una volta, ha confermato la linea dura sull'estrazione del greggio. Peraltro, aggiunge il consigliere del Centro Democratico, il governo ha già approvato una norma per estrarre più petrolio, ponendosi in una futura trattativa nella posizione di vantaggio. Dispiace registrare, dice ancora Benedetto, un atteggiamento sprezzante della democrazia, dell'autonomia regionalista e dei cittadini. Per questo, conclude, spero che il governo Pittella accolga la mia richiesta di un consiglio regionale straordinario che sappia dare a Renzi le risposte che merita. Grazie a tutti.